E' finita da poco la Champions League, il Real ha vinto la quattordicesima e non sarà un caso, il Real non perde mai in finale e non sarà un caso. L'abitudine è anche un po' secondo me di timore che mette negli avversari che sanno benissimo che il Real è una squadra che non perde le finali. Ancelotti, dopo aver stabilito il record di aver vinto il campionato nei cinque tornei principali, ha stabilito un altro record e ha vinto quattro Champions. Pensate che ne ha giocate tre con Liverpool, ne ha vinto due e ha perso solo quella che vinceva 3-0 alla fine del primo tempo, pensate il calcio come strano e come folle. Però la serata di stasera mi ha fatto capire delle cose, perché io cerco di imparare da quello che accade con grande umiltà. La prima cosa che ho capito è che se tu c'è il portiere e il para, più che giocare con i piedi, vinci. Questo ha parato tutto stasera, Courtois, che pure a Madrid ha avuto delle difficoltà nelle stagioni passate, però stasera sarà il triunfatore della serata, ha preso qualsiasi cosa. Poi un parato anche che può giocare in tanti modi, ma se c'è una punta che fa gol è meglio, perché è vero che le altre aiutano, però un attaccante che fa gol ti serve. Il Real Madrid alla fine è stato portato qui da Benzema innanzitutto, da Rodrigo e da Vinicius. E comunque ha sempre giocato con una punta centrale. Io credo poco a questo gioco senza punte centrali. Oggi alla fine il Liverpool ha alternato dei giocatori che sono più laterali, più esterni che centrali. Forse Firmino è quello che ha giocato più centrale nella storia del Liverpool recente. Però non è neanche lui quella punta vera che a me piace, è il bomber antito, tanto per intenderci. Poi un parato che non esiste, è un solo calcio, perché il Liverpool non meritava di perdere stasera. Ha giocato meglio, ha giocato in maniera più divertente, ha sfiorato il gol di più, però ha vinto il Real. Ha vinto il Real con alcune mosse, con una difesa straordinaria, con Valverde a destra che ha limitato la spinta di uno e due terzini, scelta, secondo me, geniale, di Ancelotti e con un centrocampo che si è sacrificato. Ancelotti ha fatto una gran difesa perché, lo aveva detto anche nelle settimane passate, l'unica maniera per battere il Liverpool probabilmente è giocare così, cioè giocare in difesa con umiltà, perché se te la vai a giocare contro il Liverpool, che è un gioco straordinario, perdi. Invece lì non era importante stasera fare bella figura, ma era importante portare a casa la Coppa. e quindi l'ha fatta. Questo tanto per dire che poi, come sapete, io non credo tanto alle filosofie, al calcio è questo, al calcio è quello, al mio calcio. Il calcio è fluido, il calcio si adatta, cambia, dà delle risposte insospettabili, si adatta all'avversario che tu affronti. Non è una cosa sola il calcio, il calcio è bello per questo, ragazzi, è inutile. Sfugge a controlli e definizioni, si può cercare di inseguirlo, si può cercare di spiegarlo in qualche modo, o di comprenderlo meglio ancora in qualche modo, però lui poi sguscia via, è il suo bello. Poi ho imparato un'altra cosa, ho imparato che i grandissimi sanno perdere, e Klopp è un grandissimo. Considerate che il Liverpool è arrivato alla 64esima, 63, 63, 64esima partita stasera, è un numero spaventoso di gare. Considerate che perde per la seconda volta in finale contro il Real Madrid in pochi anni, però Klopp vi è piaciuto sia quando non ha voluto parlare di vendetta, cioè di un termine con accezione negativa, comunque in un momento così, è stato secondo me bravissimo, e poi questa camminata col sorriso, mentre saluta tutti, con i giocatori del Liverpool che si abbracciano e stringono la mano agli avversari, nessuno si toglie la medaglia, è stato veramente un bellissimo gesto, che secondo me arriva anche da quello che ci ha insegnato Klopp, il sorriso sulle labbra sempre, una grande signorilità, rispettare l'avversario, ecco, respect, che è una delle parole fondamentali da Champions League, almeno in campo, perché poi fuori è successo un po' di casino, stasera sicuramente, sicuramente, sicuramente c'è stato. E poi, voglio parlare un po' di due cose, la prima è che mi è piaciuta, finali diciamo, la prima è che mi è piaciuta molto l'intervista a Davide Lippi, appena finita la gara, Lippi ha detto, non ho parole, però voglio dire solamente una cosa, questi sono dei campioni, questi sanno come si fa, e si riferiva ai giocatori, alcuni loro hanno vinto sei Champions League, gli hanno chiesto, che gli avete detto prima della partita? Ma noi abbiamo fatto un video emozionale, ma che gli vuoi dire? Loro sanno. E poi Davide ha concluso così, noi gli abbiamo fornito gli strumenti giusti e necessari, gli abbiamo spiegato alcune cose, gli abbiamo spiegato e presentato gli avversari, gli abbiamo detto qual era la strategia e la tattica di gioco, ma poi in campo sono andati loro, e sono loro che vincono le partite. Ecco, questo secondo me bisogna ricordarlo, io lo dico dall'inizio dell'anno, gli allenatori sono importantissimi, ma il calcio è dei giocatori, e le partite alla fine le vincono i giocatori. L'ultimissimo pensiero, che ne avevamo promessi due, è per Carlo Ancelotti. È un mio amico, io lo conosco benissimo, ho lavorato insieme a lui, in una fortunata stagione, anzi in mezza fortunata stagione di Champions League, perché poi lui ha andato via tra un'altra squadra, so che lavora con pazienza, con rispetto, ritagliandosi anche degli spazi per scaricare la tensione, e soprattutto lui è un uomo in grado di gestire questi grandi gruppi di giocatori. Ha gestito perfettamente questa comunanza tra grandi vecchi e giovani emergenti. Era probabilmente l'uomo ideale, questa doveva essere, se ricordate, una stagione di transizione per il Real Madrid, o ha preso, sentendo Davide, che addirittura Carlo ha telefonato, dicendo, se volete io ci sono, se volete mettere a posto le cose, allora hanno detto, ah sì, chiamiamo Carlo, che è grande esperienza, vediamo se riesce a mettere a posto le cose, e direi che le ha messe a posto abbastanza, vincendo il campionato e la Liga, e trasformando una stagione di passaggi in una stagione assolutamente trionfale. Quindi, grandi complimenti Carlo, e grandi complimenti a Roberto Rosetti, capo degli arbitri europei, perché abbiamo assistito, da questo punto di vista, a una stagione veramente strepitosa. È stato anche questo di grande insegnamento. perché gli arbitri europei lasciano fluire il gioco, anche aiutati da giocatore, e qui bisogna tirare le orecchie a giocatori del campionato italiano, che non aiutano spesso gli arbitri. Anche aiutati da giocatori, ma lasciano andare il gioco, tirano fuori pochissimi cartellini, non c'è bisogno quindi di recuperi i monster, lasciano anche andare dei falli, o dei contatti che rientrano nella logica del gioco. E io, a tirano, ho incontrato Roberto. E gli ho chiesto qual era il segreto di questi grandi arbitraggi che stavamo vedendo in Europa. E lui mi ha risposto, certo tanta tecnica arbitrale, ma soprattutto abbiamo insistito tantissimo sul gioco, sulla conoscenza del gioco, il vecchio mantra di Collina. La conoscenza del gioco. Cioè, se tu come arbitro conosci il gioco, non prendi delle decisioni contro il gioco. Cioè, diciamo un po' da leguleio, no? Prendi delle decisioni che sono nel flusso della partita. Proprio perché comprendi che quell'intervento è onesto, che quello non è un fallo cattivo da giallo. Cioè, pensi, non da calciatore, pensi per il bene del gioco. Pensi nella logica del gioco. E questo, secondo me, è il passo in avanti che dobbiamo fare anche in Italia. Complimenti a Real, ma complimenti anche a Liverpool. perché stasera avrebbe obiettivamente meritato di più.